Il ripertorio della musica liturgica oggi, è necessario rinnovarlo o ritornare alla tradizione? Dunque, io sono per un ritorno alla tradizione perché ho una mentalità diciamo professionale classica, per esempio non si sentono più le messe di Lorenzo Perosi in chiesa, si sentono solo questi canti con la chitarra che diciamo danno raccoglimento al fedele. Io spesso canto in chiesa e quando faccio della musica bella, musica liturgica di un certo livello, la gente sta lì che ascolta, quindi per me è importante anche non buttare via il passato perché il passato fa parte diciamo del ripertorio naturale della chiesa come il canto gregoriano, queste belle cose. Poi la gente ha bisogno di ascoltare, comunque di pregare ascoltando della bella musica ben fatta, quindi io la penso così. Poi magari qualcuno dirà no, è meglio andare avanti, fare musica con chitarre, elettriche eccetera. Io sono un classico, quindi la penso in questa maniera. Allora, per quello che ho visto io nella mia esperienza è giusto partire dalla tradizione, dalla tradizione che sia quella cattolica che può anche esplorare poi tutto il ripertorio che ci sta universale, c'è anche musica orientale, la musica americana, si può spaziare. Secondo me la cosa fondamentale, l'innovazione ci deve stare, l'importante è che rimanga sempre su alcuni canoni, cioè la bellezza del canto che aiuti a entrare sempre nella liturgia, cioè che non sia una distrazione ma che sia sempre un aiuto, non il punto fondamentale ma l'aiuto e quindi anche la bellezza che aiuti a entrare nella bellezza della celebrazione eucaristica. Allora, io penso che come in tutte le cose serva sempre trovare il punto di equilibrio, in questo caso tra tradizione e rinnovamento. Attualmente nel nostro ripertorio almeno al 50% è formato dai canti di Monsignor Frisina che sono meravigliosi e che predispongono proprio l'animo alla preghiera. Io sono una fautrice del canto gregoriano, quindi penso che quello che è stato fatto fino ad oggi è meraviglioso e assolutamente non lo metterei da parte. Sicuramente magari in altri momenti come le adorazioni eucaristiche, momenti di preghiera condivisi, magari anche durante la messa liturgica, qualche, forse è più quella dei giovani, qualche rinnovamento ci debba essere, perché è ovvio che ogni persona, ogni gruppo, ogni messa partecipa in modo diverso alla liturgia. Un po' più di rinnovamento, ma anche ancora la tradizione che è stata scritta fino ad oggi. Ma io credo che sia importante comunque far avvicinare le persone in qualunque modo, sia rispettando quello che è il passato, la tradizione, quello che ci hanno lasciato i nostri musicisti più importanti, da Palestrina a Monteverdi, allo stesso Marco Frisina che è molto prolifico, diciamo, nelle scritture delle musiche liturgiche, e anche i brani moderni come, diciamo, quelli scritti da Gen Rosso, Gen Verde, perché comunque l'importante è animare la liturgia. A me piace molto il gregoriano. Io vengo da una scuola, diciamo, molto pesante, nel senso che nel coro precedente, dove io cantavo, si faceva canto gregoriano, musica polifonica, prettamente polifonica, e quindi io amo quello che è il passato della musica, però assolutamente non disdegno e non disprezzo nulla. La musica è musica, specialmente la musica sacra, è bella tutta, quindi secondo me ci vuole sempre il giusto equilibrio, perché le persone vanno accontentate tutte, specialmente quando si anima la liturgia. La tradizione ha canti meravigliosi, ci stanno cose da poter fare e cantare che sono bellissime. Insieme a questo, ovviamente, oggi ci sono tantissime cose nuove che hanno, comunque, toccano il cuore. Vale et et, nel senso che c'è tanto che ci portiamo dietro di tradizione, che è bello poter continuare a fare, e tante novità che sono molto belle. L'importante è fare le cose con spirito e con amore. Lo sguardo continua alla tradizione e bisogna sempre darlo. Comunque, mettere su un repertorio prettamente liturgico per le celebrazioni, certo ci vuole tempo, perché considerando il ciclo degli anni A, B e C, già sono tre modi differenti, le 34 domeniche sono tante. Nel tempo ordinario si può un po' più vedere il senso della liturgia e qualche canto, ripeterlo pure, certo qualche canto nuovo ci vorrebbe, però come rinnovamento sì. L'essenziale è che, diciamo, siano inerenti la liturgia, che non vadano troppo al di fuori anche delle nostre tradizioni, poi oltretutto. L'essenziale è che, diciamo, siano inerenti la liturgia,